Oh, questa collana è spaventosamente stupenda. Lo so, è davvero bellissima. Me l'ha regalata Claude. Me la faresti provare? Va bene, ma prometti di stare a... Oh no, è caduta nell'abisso profondo. Mi dispiace tanto, te la riprenderò, promesso. Oh no, forse non hai capito bene. È caduta nell'abisso profondo. È sparita per sempre. Fate silenzio. Come mai parlate dell'abisso profondo? Ho fatto cadere la collana di Draculaura laggiù, ma io andrò a riprendere. Nessuno, nessuno può scendere nell'abisso profondo. Come mai tutto questo mistero su l'abisso profondo? Ah, l'abisso profondo. Frankie, la piscina della Monster High è la più profonda del mondo. Nessuno sa cosa si aggira laggiù in fondo. Beh, io ci andrò. Tutto questo è successo per colpa mia e io rimedierò. Oh, non sentirti in dovere di farlo. Dirò semplicemente a Claude che... che... Io l'ho persa! No, 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 vedrai, metterò tutto fuori. Se andrai tu, verrò anch'io con te. Non capisco proprio dove sia il problema. L'abisso profondo sembra così carino. Guarda qui che bel fiore! Quello non è un fiore! Ha preso la collana! Aspetta! È entrato qui. Ci sono tantissime cose là dentro. Ehi, tu! Dammi indietro la collana! Frankie, non ne vale la pena! Frankie! Non ti hanno mai detto di non metterti contro un vostro con i pulmini! Ora, dammi indietro quella collana! Oh, grazie, grazie mille! Lavorando insieme abbiamo superato le nostre paure e reso un favore a tutta la scuola. Vedi? Oh, che bello! La mia calcolatrice è T97X4! Oh, pensavo che non ti avrei più rivisto, piccola mia!